Ciao e benvenuti sul mio canale Jessica A-S-M-E-R allora da come avrete potuto notare dal titolo e dalla fotocopertina oggi sono qui con un video un po' particolare che non ho mai portato sul canale ma che ho visto soprattutto nella maggior parte dei canali stranieri e mi ha incuriosito un sacco, premetto da me c'è sempre casino quindi con questa tipologia di video secondo me si sentirà ancora di più anche se spero di no ma vi giuro raga sto cercando di registrare più video nella stessa giornata per appunto portarmi avanti per poterli programmare riesco a sentire la persona con la quale è al telefono, quella di sotto riesco a sentire sia lei che la persona con la quale è al telefono cioè raga capite io non posso registrare video normali figuriamoci un video in cui ho il gain letteralmente al massimo ancora non ce l'ho però appunto lo alzerò dopo quindi la sensibilità è altissima spero, spero vi faccia piacere spero che in questi 10 minuti non facciano casino perché raga veramente la volta buona che faccio una strage tra quella di sopra e quella di sotto veramente anche no niente, prima di iniziare il video vi ricordo che se volete farmi un regalino per supportare il canale trovate come sempre il link della mia wishlist di Amazon qui sotto nell'info box quindi se volete andare a dare anche solo un'occhiata trovate tutto qui sotto ora sperando che venga un video carino e che la gente sia perlomeno civile in questi 10 minuti io proverò ad alzare non dico proprio il massimo massimo però quasi il gain e vediamo che cosa esce fuori ho preparato degli oggettini che sicuramente avrete visto nella copertina e niente proviamo io già sento l'accento al telefono però vabbè spero spero non sia troppo forte Sì Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' un po' di casino lo santo Ma spero vi piaccia lo stesso questo video Non vedevo l'ora di farlo vero giuro Se poi come tipologia vi piace Magari più avanti Cioè me lo fate sapere nei commenti E più avanti Magari porto un altro video Un pochino più lungo Ovviamente ci mancava l'aeroplano E che dici te lo fai mancare l'aeroplano? Cioè capite raga? Ma qui veramente non si può vivere E in qualsiasi orario è del giorno e della notte Sempre così Ripeto con questa tipologia me la sto proprio rischiando A presto proviamo 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.